Benvenuto segno della bilancia per te che hai l'ascendente, il sole, luna o venere nel segno della bilancia o se stai semplicemente ascoltando questo video perché hai una persona del segno della bilancia che ti interessa. Andiamo a vedere il messaggio per te appunto segno della bilancia per questo momento. Il video ha la validità dal momento che tu lo trovi, quindi senza tempo. Andiamo a vedere il messaggio per te, useremo le carte che ho creato io, useremo le carte napoletane e infine le carte delle fate. Iniziamo subito e andiamo a vedere insieme qual è il tuo momento presente. Quindi bilancia, che cosa stai vivendo in questo momento, qual è il momento presente per il segno della bilancia, qual è il momento presente per il segno della bilancia, ok. Ok, devo dire che hai superato sicuramente delle paure, dei rimpianti, hai chiuso col passato, sei andata o andato oltre. Qui vedo che c'è una persona comunque a cui vuoi parecchio bene, o comunque potresti avere una persona importante nella tua vita, anche se potrebbe essere una persona che più che con le parole magari ti dimostra più che altro con i gesti. Quello che prova per te è meno con le parole dolci, eccetera, eccetera. Ci sono però dei dubbi nel senso che sei un po', come dire, con questa carta è come se ti aspettassi un po' una ricompensa dalla vita, è come se sì hai superato delle paure, dei rimpianti, ma è come se avessi un po' un conto in sospeso con la vita, è come se sentissi di meritare di più rispetto a quello che tu hai. Qui c'è anche un po' l'essere delusi, nel senso essere poco sognatori, ecco, molto razionali con questa carta, è come se noi pensiamo gli uomini sono tutti uguali, le donne sono tutti uguali, avere un po' dei preconcetti, ecco. Questo è un po' il momento presente, sicuramente anche qui per quel che riguarda l'ambito lavorativo si vuole andare a stare meglio. Non ci si lamenta, segno della bilancia, però vedo che comunque il desiderio di andare a stare un pochino meglio c'è. Vediamo qual è il tuo obiettivo, andiamo a fare la domanda. Vediamo qual è l'obiettivo, che meta vuole raggiungere, la tua meta. Segno della bilancia, qual è la tua meta. A parte vogliono parlare. Segno della bilancia, qual è la tua meta. Qual è la meta per il segno della bilancia, che cosa vuole raggiungere. Qualcuno potrebbe lavorare come insegnante, parlando, usando comunque la parola. Qual è l'obiettivo per il segno della bilancia. Allora, questa si è girata e io la vado a prendere insieme a te. Eccola qui. Qui desiderano molti di voi riuscire a comunicare nel modo giusto, a farsi comprendere dalle persone che ci circondano. Vorremmo sempre avere un po', diciamo che qua vogliamo avere un po' un miglioramento per quel che riguarda le relazioni con gli altri. Abbiamo il desiderio di essere compresi, di essere accettati per quello che siamo, senza dover indossare una maschera, senza la paura del giudizio degli altri. C'è un qualcosa anche a livello di rapporto importante che abbiamo vissuto, che sia con un amore che poi è terminato, o si è interrotto, che sia con un parente, con un figlio. Però qua, con questa carta che è già uscita per altri segni zodiacali, già stata presente in altre stesure, abbiamo voglia di un ritorno, di un riscatto. O di rivivere nuovamente un rapporto con una persona che comunque fa parte del nostro passato e una riconciliazione. Quindi il nostro obiettivo è quello di ritrovare un po' anche un equilibrio, ma che qualcuno ci capisse, che qualcuno capisse il nostro punto di vista, che qualcuno capisse un po' le nostre ragioni, eccetera, eccetera. Ok? Questo è l'obiettivo che mi fanno vedere. Andiamo a vedere invece cosa accadrà. Che cosa accadrà per il segno della bilancia? Che cosa accadrà per la bilancia? Scendente, sole, venere, luna. Che cosa accadrà per la bilancia? Vediamo tre carte. Ci sono i sorrisi, comunque. Questa era un qualcosa che era comunque nei tuoi obiettivi, ritornare a sorridere, ritornare a avere anche il tempo di prendersi cura di noi stessi. È uscita in questa posizione a fondo mazzo, proprio negli eventi, in quello che accadrà. Quindi quello che accadrà sicuramente è che ritornerà al sorriso. Vedo però ancora la necessità di fare un pochino, tra virgolette, attenzione in campo lavorativo. Potrebbero esserci delle spese eccessive, potremmo magari avere un piccolo calo a livello lavorativo. Con questa carta mi parlano di dubbi per quel che riguarda proprio le finanze. Magari stiamo ristrutturando casa, siamo nelle spese, eccetera, eccetera. Riusciremo comunque a guardare al passato sorridendo, riusciremo a perdonare con questa carta. O comunque riusciremo anche ad essere perdonati, comunque a ricucire quel rapporto di cui parlavamo prima. Ma qui c'è un perdono da ambe e due le parti, qualcuno che perdonerà o noi perdoneremo qualcuno. C'è sempre un po' questa sorta di poca dolcezza intorno a noi. È come se forse siamo più noi che diamo dolcezza agli altri. Ma c'è sempre un po' questa situazione delle persone intorno a noi che magari mancano un po' di quella carezza, di quella parola dolce, dimostrano il loro amore sicuramente con i fatti concreti, però a livello di dolcezza, tenerezza, dimostrazioni così... Qua siamo un po' carenti, eh? Questo è ancora, di nuovo, me lo stanno facendo anche negli eventi, me lo stanno facendo vedere anche un po' negli eventi che accadranno. Allora, andiamo a vedere. Voglio lasciarti una carta delle fate, bilancia. Vediamo un po'. Una carta per te. Bilancia. Una carta delle fate per te, bilancia. Ok. Allora, quando il tuo corpo si rafforza, inizi a sentirti più potente in ogni senso. Questa è una carta... E poi abbiamo la carta dei fiori. Io direi che qua, queste due carte, mi stanno dicendo di passare più tempo all'aperto, muoversi, fare sport, se abbiamo un orto, se abbiamo la passione dei fiori, del giardino, eccetera, eccetera. Questa è una carta che poi abbiamo, va tutto bene, non ti preoccupare, sta andando tutto per il meglio. Diciamo che secondo me qua dobbiamo un pochino spegnere il pensiero razionale, cercare dei momenti, di ritagliare dei momenti per noi stessi, per prenderci cura delle nostre passioni, dei nostri hobby, di noi stessi, e quindi tranquillizzarci con la certezza che tutto va bene. Ok? Questo è quello che io interpreto come il messaggio delle carte delle fate. Adesso vado a terminare dandoti un consiglio con le carte napoletane e andando a vedere con quali segni interagirai maggiormente, bilancia. Vediamo un po' qual è il consiglio per il segno della bilancia. Qual è il consiglio per il segno della bilancia nel momento che troverà questo video? Bilancia, ascendente bilancia o valori forti nel tema natale? Consiglio. Gli Vancouver Vediamo un consiglio Corre Bilancia, Ganitancia ok qui forte chiaro dicono di non aspettarti di rimanere da sola non aspettarti il peggio non avere sempre un po fisso nel pensiero la situazione più catastrofica c'è la necessità di allontanarsi qua di fare un viaggio di fare un trasloco c'è la necessità di spostarsi o comunque di distaccarsi un attimino ma anche farsi una piccola vacanza prendersi un momento per noi stessi dicono che ci saranno delle persone che comunque si allontaneranno da sole dalla tua vita ci sarà uno sblocco ma delle persone che comunque magari con cui non vai d'accordo persone che magari in ambito lavorativo ti mettono i bastoni tra le ruote è come se si allontaneranno loro stesse dalla tua vita o dalla vita delle persone che tu ami di conseguenza dicono di allontanarti e soprattutto di tenere a bada un attimino i tuoi pensieri qua è molto difficile vedo prendere una decisione stai facendo veramente molto fatica per quel che riguarda prendere una decisione che riguarda il futuro ti dicono non ci pensare in questo momento perché le cose andranno a incastrarsi come un puzzle da sole anche qui ti danno un tempo più o meno qui anche come tempi ti dicono un posso dire più o meno abbiamo un numero 4 5 anche qua un 4 5 quindi dal momento che tu vedi la stesa più o meno è come se le cose si mettessero a posto da sole arriva arriva il caso che non è mai un caso che fa allontanare delle persone che potrebbero metterti bastoni tra le ruote oppure proprio persone inerenti a un trasferimento per quel che riguarda il lavoro o la casa persone che andranno via da sole quindi tu non devi prendere in questo momento nessuna decisione ok avere solo fede e fiducia che entro questo 5 che possono essere 5 settimane 5 mesi dal momento che tu vedi la stesa le cose andranno a posto da sole vediamo un po con quali segni invece il segno della bilancia andrà ad interagire maggiormente potrebbe essere necessario se quella è la tua situazione anche magari proprio chiedere un trasferimento chiedere di andare via cambiare un posto di lavoro o proprio la casa c'erano anche queste situazioni nelle carte quindi comunque in base alla tua situazione specifica cogli il tuo consiglio penso che hai capito allora andiamo a vedere i segni di fuoco abbiamo qua e i segni di terra molto forti come interazione con te quindi abbiamo riete leone sagittario toro vergine e capricorno qui abbiamo però ancora il segno dell'acquario ok questo era per te segno della bilancia io ti aspetto nel prossimo video luce grazie